Il mio nome è Rajit, io marocchino, la mia missione è vendere coca in italiano. Salam Antonio! Salam Antonio! Salam Antonio! Non salutare mai Antonio, vaffanculo! Io vendere cosa buona? Ma tu vende? Coca! Tu vuoi vendere coca in Viena? Coca buona? Coca del Marocco, tu vuoi? Questa notte fare sesso buono? Sesso! Sì! E cosa prendete? Io vendere coca in Marocco, vuolete? No? Tanto io ho un amico di Polizia, tu conosci il vice l'urbano, ma conosci Rajit, Rajit! Vuoi vendere coca? Questa è buona per fare sesso? 3000... Ok, questo qua! E qui, cosa vuoi? A cosa pensare io vendere la coca? E qui, cosa vuoi? E qui, cosa vuoi? E qui, cosa vuoi? Tu pensare che vuoi vendere la troca? E qui, perché è marocchio? Perché è marocchio? Perché è marocchio vendere la troca? Perché è marocchio? Perché è marocchio? Io posso procurar il Viagra? Vole il Viagra? Va bene amico? Coca Cola niente allora? No niente? Va bene! Buono! Salam! 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 Oh salam! Venta le cose buone! Venta via! Sordi che ricerchiamo! Le cose buone non... Sordi! Amico! Venta le cose meglio di Viagra! Giacca e tutte funzioniamo tutte! No! Questa che io vengo da Marocco buona! E qua, come funzioniamo tutti? Io vengo coca! Se hai visto dove devo comprare! Perché come si vende coca! Io vengo coca amico! Lo calmante ne serve! Siamo accettati al marzo! Questa ne serve lo calmante! Guarda poco prezzo amico! Dai! Fai vendere la mea! Fai vendere la coca! Senza dovere capire! Mi chiedo che hai i soldi a dare! Che tu senza capire! Vuole la coca? Coca! Non vuole che c'è la coca? Niente allora? No? No! Va bene! Facciamo la finanza! Oh! Io vengo la finanza! Io vengo la finanza ora! Ora vuoi fare mille mi piace! E mille condivisioni! Altrimenti io sequestro questa signora qui! La sequestro! Bella signora! Direi tu che fai mille condivisioni! Sequestrare me non conviene! Perché si scatta! Non torno a rumore! No! Io ho mille mi piace! E mille condivisioni! Salute Androne! Ciao Androne! Ciao! Ciao!